prima di iniziare il video avete la minima idea di come si fa a pulire una palette in queste condizioni perché mi vergogna alquanto a mostrarvela così tutta quella polvere però senza andare a toccare le cialde perché le cialde della polvere non vanno toccate ovviamente ho trovato un metodo molto carino che voglio proporvi allora questa è una palette un po schifosa noi andiamo a prendere una salviettina struccante così dobbiamo andarci a poggiare sopra una parte che sia pari in questo caso non guardate ma io uso uno slime andiamo a fare così così tendiamo bene bene la salviettina in modo che sia bella tesa e andiamo a passare sopra in questo modo puliamo tutto il contorno senza però guardate la differenza senza però andare a toccare le cialde ok adesso ora che vi ho mostrato questo piccolo trucco direi che possiamo iniziare allora nel video di oggi vi voglio parlare di questa palette della sephora che si chiama flash sequins sequin questa qui e questa è nella versione sto guardando il computer nella versione oro e nude sono come sempre le palette piccoline questa è un 6 cialde da 1,2 grammi ed il prezzo è di 10 euro e 90 e sapete che i prodotti della sephora collection sono difficilmente scontabili tranne che qualche giorno fa che c'è lo sconto del 25 però un paio di volte all'anno allora questa palette intanto allora si apre così perché è magnetica ok e nella parte inferiore a le istruzioni e poi si presenta così con sei ombretti allora vedete che c'è già il buco e per questo che ho voluto parlarvene subito anche se non la sto testando da tanto tempo però in due ombretti c'è già il buco perché perché trovo che questo colore sia quello perfetto per sfumare e per la transizione e questo è l'unico scuro per dare profondità agli occhi adesso ve la mostro meglio nel dettaglio sicuramente poi vi ho fatto anche lo swatch però se già visto che sono due colori che andranno via subito allora intanto ve ne parlo un secondo questo è il primo flame è un marroncino opaco poi abbiamo ray che è quello che con più buchi in assoluto che finirà molto velocemente sempre opaco vedete leggermente rosato e per me è perfetto come colore per per sumare oppure come colore di base da applicare sopra gli altri ombretti per applicarci sopra gli altri ombretti poi shine sì effettivamente shine perché è un metallizzato e da qui sembra un porpora e invece è più sul bronzo comunque vi ho fatto lo swatch completo con delle luci più decenti e meno artificiali che lo vedete meglio poi twinkle eccolo qui che è un dorato questo per dare luce è bellissimo è bello proprio proprio un dorato sempre metallizzato non è un shimmer poi abbiamo dazzle e l'altro con il buco ovviamente perché è l'unico marrone scuro che mi serve per dare e nella piega per dare profondità è inutile mi sto dicendo di swatch adesso però dopo appena fitto di palari li vedrete meglio perché qui si vedono davvero poco ultimo colore poi che è quello che vedete ho usato meno perché non riesco a comprenderlo è bello è bellissimo però non lo riesco a capire non mi va come punto luce andrebbe solo nella parte centrale dell'occhio per dare un attimo di luminosità allora un secondo che mi pulisco le mani è tutto è tutto Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.